we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia più passano i giorni e più le novità riguardo al futuro di fortnite si fanno sempre più interessanti tra le altre cose se non lo sapevate ieri venerdì è stato fatto dopo un po di tempo il q e a che cavolo è il q e a è il question and answer cioè la la gente in la community di fortnite ha avuto un periodo di tempo per fare delle domande direttamente ai produttori agli sviluppatori al team che crea proprio il gioco ed ottenere quindi delle risposte vi ricordo che vengono cancellate dopo 24 ore io ne ho alcune da farvi proprio vedere perché sono super interessanti nel video di oggi infatti parleremo anche della mega patch 9.20 che vedrà l'introduzione di cose molto interessanti e il pronostico per un futuro di fortnite davvero ricco di sorprese ma si avvicina anche il weekend del 15 e 16 giugno vi avevo già parlato che ci sarà l'evento block party sponsorizzato ufficialmente da epic games ne parleremo più avanti e ovviamente qualche leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xiu derone per scioppazzare di prepotenza nello shop grazie di cuore ragazzi per iscrivervi al canale mi raccomando non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina ve la devo fare ragazzi perché sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto mi rispondete ogni giorno in tantissimi e sono proprio felice domanda di oggi ragazzi molto diretta e molto interessante ma qual è il tuo quartiere preferito non necessariamente tra questi che stai vedendo dai oramai il block c'è davvero da tantissimo ragazzi e di quartieri ne abbiamo visti parecchi continuo a reputare che sia una delle genialate che potessero fare quelli di epic games la possibilità di avere una mappa fresca ogni tot giorni ragazzi qual è il vostro quartiere preferito per chi non sapesse il mio ragazzi è lo stadio il solar stadium della nfl quello appunto proposto insieme alle skin della nfl uscite oramai un paio di season fa mi sa e forse nella season 7 sono quasi certo perché c'era la neve ditemi qual è il vostro qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a questa è brutta raga questa è brutta ve l'ho detto anche nel titolo e nella copertina brutta storia per i cecchini ragazzi purtroppo e leggiamo direttamente una parte di quello che viene detto there's an excessive amount of snipers in the game so expect some to be vault in future ci sono troppi cecchini in gioco porco giuda mi metti dentro il semi automatico e allora sei un scemo sai proprio nel senso hanno intenzione di togliere qualche cecchino e problema ragazzi è che molto probabilmente già si è vociferato che il candidato sarà il barrett io spero davvero di no però il bolt silenziato non ha senso che lo tolgono perché è l'unico cecchino silenziato il semi automatico l'hanno appena messo a meno che non fanno come la mitraglia che la mettono dentro te la danno sei settimane e poi la tirano via il cacino cosa fai togli il cacino la cosa più simile al bolt ragazzi è il barrett quindi ho paura che purtroppo il candidato sia lui ma altre notizie interessantissime riguardano ragazzi una nuova nuovissima serie di tornei che sarà dedicata completamente alle ltm e non è un caso che alle mie spalle c'è proprio la schermata della solid gold la oro massiccio perché il primo torneo nelle ltm vedrà proprio la modalità oro massiccio leggiamo direttamente epic is planning on running ltm tournaments the first tournaments will feature the solid gold ltm in squad quindi ragazzi primo torneo e secondo me danno i cash ragazzi per i tornei perché epic games viene sbatte dai cash il primo potrebbe essere cioè primo sarà sicuramente quello della solid gold e poi mano a mano ce ne saranno tanti tanti altri ma si parla anche ovviamente dei veicoli ragazzi non della girosfera in questo caso come vi sto facendo vedere ma è un esempio semplicemente e probabilmente non si sa se da questa patch o dalla prossima o comunque dalle prossime epi games discuses potentially disabling all vehicles after storm phase 5 similar to sleep stream praticamente voi sapete che quando arriviamo alla fase numero 5 quindi al quinto cerchio della tempesta per esempio i condotti di aria che ci sono e che sostengono le piattaforme vengono disabilitati quindi non si possono più utilizzare ecco uno degli aggiornamenti sarà anche la disabilitazione penso si dica così di tutti i veicoli alla stessa identica fase quindi o esplodono per dire comunque non si potranno più usare veicoli dopo la quinta fase della tempesta e ragazzi una delle cose più interessanti questo invece è confermato dalla patch 9.20 the boom will receive a nerf in 9.20 l'arco riceverà un grande nerf nella patch 9.20 perché è veramente schifosamente assurdo cioè l'arco che ti sciotta con due colpi con la velocità con cui spara comincia a diventare veramente fastidioso ultima modifica di quelle più importanti nella modalità replay verrà aggiunta una nuova camera che dovrebbe avere gli auto high glide tool quindi i momenti salienti della nostra partita saranno in qualche modo evidenziati e comunque presi da angolazioni belle da questa nuova camera che permetterà quindi di proporre a noi giocatori schermate migliori qualora doveste fare i vostri video relativi a fortnite ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua il block party quindi ve ne avevo già parlato l'evento davvero super interessante che si terrà il 15 e 16 giugno a los angeles se non ricordo male e tra l'altro ci saranno un sacco di streamer se non ricordo male l'anno scorso nel summer block party 2018 ci fu la grande vittoria della duo ninja marshmallow dovrebbe essere proprio il block party che si tiene in uno stadio con un palcoscenico gigante con postazioni da gaming e il pubblico nel green del prato ovviamente sarà tutto trasmesso su twitch su youtube non avrete modo di perderlo se vi interessa il competitive a livelli veramente alti abbiamo anche dei nomi per chi li conoscesse per la per l'ondata numero 8 quindi sono le persone che probabilmente si stanno in questo momento affrontando per poi accedere appunto all'evento vero e proprio che consisterà sia nel giocare in creativa con delle mappe create appositamente per il block party quindi parliamo di divertimento puro che in modalità competitiva appunto giocando in duo per portarsi a casa l'anno scorso avevamo vinto dei soldi e il piccone in oro bellissimo proprio chi va andava a riprendere il piccone di default di fortnite ma andiamo avanti ragazzi e volevo anche un attimo parlarvi prima di chiudere per chi non lo avesse ancora visto di questo cubo ve l'avevo già fatto vedere presente dalla patch 9.10 sotto la cartella dell'evento di picco polare il cactus event beh ragazzi abbiamo la collocazione in game di questo cubo e cavolo cavolo si trova proprio dietro l'occhio gigante che c'è nella grotta di picco polare questo vuol dire che il cubo è un nuovo cubo non lo so però c'è non possiamo farci niente io ragazzi non è che ho amato proprio così tanto il cubo nella season 6 è stato un po così e cosa però sarebbe in realtà se ci pensate bene in coordinato ad un anno di distanza perché sono convinto che era estate perché ero in vacanza quando apparve il cubo quello viola che tutti ricordiamo potrebbe davvero essere un nuovo cubo di ghiaccio a fare la sua comparsa in game beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live oggi alle otto e mezza del mattino ciao